Start, two, one, install mission and lift off! Ho toccato diverse ore e diciamo che vorrei parlarvene perché in passato ho fatto live, sono stato ospite da Mirko, ho fatto dei video io stesso, ma ora che ne so di più posso parlarvene meglio e posso anche chiedervi quando arriveremo alla fine del video se siete interessati a vedere magari uno o più episodi in cooperativa. Allora, il discorso è molto ampio, onestamente io non so da dove cominciare, sappiate che il commento parto dal fondo, il commento finale è questo o X4 Foundation? È un discorso molto ampio e voglio iniziare a parlarvi appunto delle possibilità che vi offre questo gioco. La differenza sostanziale tra questo e un X4 Foundation o i capitoli precedenti è il fatto che voi potete costruire fisicamente le navi. Non fatevi ingannare dal design perché è molto cubettosa, questa l'ha fatta Ibu ma è molto efficiente perché potete andare nei design e prendere dal workshop le navi che volete o caricarle voi stessi come ad esempio questa Enterprise che sono enormi rispetto alla nave che ho adesso. E quello che voi andate a piazzare a livello di blocchi più motori metto, più accelerazione, più armi, più scudi metto, più scudi qui, più metto l'hangar piuttosto che altro o quel determinato oggetto che poi è editabile a livello di dimensioni e forma. Quindi io posso piazzare un blocco, il motore o singolo blocco per singolo blocco o prenderne uno e estenderlo e renderlo più grosso e quindi renderlo più efficiente. Abbiamo la forma della nostra nave che tiene conto appunto della sua forma e vi dà i relativi potenziamenti e credetemi se voi prendete la vostra nave la fate uguale, salvate il progetto e la date a un amico e la potenzia con potenziamenti diversi la nave sarà assolutamente diversissima. La mia nave riesce a fare due salti prima di ricaricare, prima di non riuscire a farne più, quella di Ibu ne fa uno e ricarica lentamente. In compenso lui ha più velocità e lui è più efficiente contro i pirati. Quindi insomma è una meccanica da gioco di ruolo perché l'equipaggiamento si divide con i soliti livelli di rarità tra l'arancione che è l'esotico, l'eccezionale, il raro piuttosto che il non comune e il bianco poi è l'oggetto comune classico. Quello che si può fare è veramente ampio nel senso che potete andare a minare gli asteroidi, potete andare a fare salvaging quindi a distruggere i redditi di navi recuperando materiali e minerali che trasportavano così come merci. Potete andare a caccia di pirati, potete fare le missioni, potete fare il commercio e chi più ne ha più ne metta. Ci sono delle meccaniche anche qui perché voi potete fondare una corporazione e questa corporazione che sarebbe un'alleanza in realtà, voi quando create una nave la fate costruire potete selezionare se è una nave della corporazione, dell'alleanza o vostra personale. Nel caso in cui fosse della corporazione tutto quello che la nave spende o fa, nel senso pagate magari qualche pedaggio come ad esempio quel portale là davanti, vedete che sulla destra è gratuito però normalmente sono a pagamento li paga l'azienda così come i guadagni che fate voi, le vendite e gli acquisti vengono scalati dal credito e ovviamente ogni alleanza ha i suoi crediti con i crediti, scusate, i suoi ranks, i suoi livelli di prestigio e ognuno di essi dà dei privilegi ai suoi membri, quindi la possibilità di spendere oggetti o meno questo si adatta in quei server che sono massivi, quindi con tante persone quindi in quel caso se siete penetrati non vi lasceranno maneggiare soldi ma se lo giocate con un amico è perfetto perché qua avete gli oggetti personali e tutto quello che prendete invece con una nave che guidate, una nave dell'alleanza vi viene buttato tutto in questo slot comune, così come anche i materiali vedete che io qui ho del materiale, qua in alto a sinistra ho l'iron, ho del titanium, sono tutti personali ma adesso se io scavassi con questa nave, se gli mettessi le torrette da mining accumulerei tutto qui e anche quando vado a costruire mi scala tutto direttamente da qui quindi è comodo perché potete condividere la mappa potete, guardate quanto è grande, siamo arrivati fin qua ma qua è già improponibile perché più ci si avvicina, più si va in là, più si va verso il centro man mano andiamo a scoprire i metalli la Naunite la si trova in questa zona qui, più o meno, adesso qui andando avanti si troveranno gli altri fino alla Vorion che è la parte centrale con i metalli più preziosi e qui ovviamente il gioco mi segnala che sono troppo debole quindi qua bisogna arrivare almeno con qualche scudo quindi abbiamo deciso di tornare indietro e fare dei soldi qui vedete queste sono delle catene di portali, dei percorsi di portali questo addirittura è un wormhole che abbiamo trovato, vedete che è uno segno scritto sotto io poi ho preso appunti e quando voi trovate una zona che è interessante potete cliccare col destro e fare adesso non qua, qua dove sono adesso potete fare add alliance note quindi aggiungete una nota, un'icona in modo che tutti lo vedano ed è utile scoprire tutti questi punti di interesse ce ne sono molti altri e vi saranno dei sensori apposta per rilevarli è molto utile perché quando voi andate a prendere una nave ad esempio questa nave è una nave da commercio potete dirgli vai e commercia e vi dà una zona e se conosce le zone può andare a vendere gli date un budget, gli date quali materiali commerciare e vi dà una lista di materiali disponibili in questo quadratone qui e lei va e commercia ma una delle meccaniche più complesse cioè più complesse, più da cui faccio attenzione vi avviso subito è questa nella flotta avete le vostre navi le navi hanno, vi mostro anche qui, un equipaggio perché in base a quanti cannoni mettete in base a quanti motori in base a quanto tutto mettete chiede una certa quantità di persone per governarla e per governare una nave servono dei diversi tipi di equipaggi in questo caso qua danno solo gli operai generici gli ingegneri e i meccanici perché ci sono i piloti, quelli della sicurezza e così via i minatori se li comprate base costano meno ma quelli, gli ingegneri valgono di più infatti vedete che qui ho 11 persone ma di cui gran parte ingegneri che valgono più di 1 quindi il totale è 18,5 invece di 11 quindi calcolate che qua mi rende al 200% la velocità della nave grazie agli ingegneri aumentati ma la parte più importante a cui fare attenzione è che ogni vostra nave ha un suo equipaggio che va pagato ogni 2 ore di gioco reale quindi tra 2 ore 7 minuti questa nave inizierà a dare segni di nervosismo perché non li pagate e quindi ecco questo qui tra 5 minuti dovremo pagare il carico questa è una nave di Ibu che non è online adesso perché non sto condividendo la partita per registrare ma ovviamente se vi farà piacere scrivetemelo sotto nei commenti di vederci magari in coop una volta registreremo video insieme sta portando del metallo anche lui dello scrap titanio che probabilmente ha recuperato da qualche parte qua c'è un minatore che sta andando e poi di cose che ne succedono ce ne sono ma adesso arriviamo in conclusione alla parte più importante perché? perché se io premo P e vado qui c'è l'enciclopedia e l'enciclopedia ci fa capire che cosa possiamo fare perché la domanda è sempre quella sì ma io inizio ma mino e mi rompo le balle uccido i pirati e mi rompo le balle allora oltre al commercio c'è la possibilità di andare a creare oggetti ma soprattutto le produzioni cioè in gioco voi potete costruire delle fattorie delle fabbriche scusate o fattoria anche perché potete fare guardate quante poi potete stoppare il video e andare a vedere dai cristalli la farm dei cristalli la produzione di celle di energia con impianti solari il carbonio la gomma i conduttori i trasformatori la plastica il solar cell i semiconduttori i microchip guardate quante ce ne sono più di x4 in questo devo dire i wire il metal plate tutte queste cose qui i laser sono tutte cose che producono e quindi le costruite le mettete in piedi e poi dovete rifornirle con le merci e loro producono a loro volta merci avete le miniere potete piazzare le miniere sugli asteroidi sono solo alcuni asteroidi li trovate li potete climbare li potete reclamare e vi fate questi tipi avete anche i collettori di gas acqua e plankton quindi andate nei settori gassosi e acquisite quelle cose potete anche allevare guardate o coltivare coltivare piante riso patate grano mais legno frutta vegetali fino ai funghi le pecore i bovini insomma altre cose e delle cose per il consumatore quindi gli habitat i biotype quindi delle sorte di serre i casinò nulla vi vieta di diventare il re dei casinò i military outpost i research station potete fare veramente qualsiasi cosa ad esempio la military outpost è quella che vi permette di produrre di far costruire a questa stazione una nave senza doverci mettere voi i materiali quindi quello è molto importante perché normalmente voi con il tasto B potete creare una nave nuova ma man mano andate avanti a produrre navi e ne avete già vi costa materiali sempre più rari ma io credo questo dobbiamo ancora sperimentarlo che facendolo costruire military outpost la strapagate però non spendete i vostri materiali tra l'altro ogni nave può essere creata in modalità station e praticamente quella nave diventa una stazione quindi pian piano ve la modificate e vi fate la stazione con il vostro hangar il vostro quartier generale ovviamente come vi dice anche il gioco nei suoi tooltip se andate in un settore e piazzate troppe stazioni quelli si sentono minacciati la reputazione vi scende magari vi attaccano anche quindi dovete fare molta attenzione ora torniamo al menu che devo andare a pagare la nave credo e vado nella flotta no manca un minutino quindi tra un minutino paghiamo gli 11.000 qua vediamo abbiamo 2 milioni e ce li siamo sudati commerciando qua e là l'obiettivo è arrivare a 10 poi magari valutare di espandere un po' il business facendo una stazione nostra che costa almeno 10 milioni altra cosa vabbè se mi domandate è più complesso questo o X4 non lo so forse le navi che vanno e vengono ce ne sono molte anche qui probabilmente a livello matematico impegno molto di più processori X4 perché comunque le navi sono più grosse sono più graficamente avanzate e magari hanno una routine un po' più profonda di quelle di questo però devo dire che la meccanica economica non è male perché se comprate tutte le merci da una zona poi la spariscono insomma cambiano anche i prezzi quindi è da tenere d'occhio niente manca pochissimo credo meno di un minuto e poi paghiamo perché se non pagate il morale scende e qualche equipaggio qualche membro dell'equipaggio potrebbe andarsene e quindi diminuire l'efficienza vi cominceranno a comparire diciamo delle icone rosse qua in alto e vi diranno se ne è andato quello non riesci a governare perfettamente il non so il cannone per il mining e così via io in questa nave ho montato questo per il salvaging ho montato questo che sono le due antimaterie cinetica e il cannone di autodifesa che ho attivato adesso che si attiva in automatico e vi spara e vi elimina i torpedo che vi stanno inseguendo eccetera e possono essere anche usate in combinazione con l'altro meno di un minuto quindi paghiamo poi da dire ce ne sarebbero tante tantissime però voglio prima vedere il vostro interesse a proposito di questo gioco perché la natura cubettosa non piace a tutti ma sulla profondità non si discute io vi dico che quando avvio il gioco lo iniziamo a giocare in cooperativa a me sembra quasi di entrare a giocare in live online quasi ovviamente noi lo giochiamo ogni partita la create e potete giocare sia in single player che caricarla in online solo per amici e il vostro amico si unisce vedete pay crew io pago 11.000 e la sua crew è a posto per altre 2 ore e 59 minuti questa la paghiamo tra 2 ore e 1 minuto 2 ore e 2 minuti e la mia la paghiamo tra 1 e 15 quindi è un costo anche lasciare in giro le navi senza fare nulla noi al momento abbiamo una nave che mina una nave che fa commerci e la nave che mina se mina vicino qua dobbiamo ancora scoprire come ma abbiamo un settore che è quello definito quello proprio di casa perché è un simbolino vedete qui con la casetta la nave noi il miner lo facciamo minare qua sotto mina e se scava qua intorno vi da in tempo reale il minerale che viene caricato in automatico se mina lontano torna indietro deposita e si ferma e come noi abbiamo pagato il pay crew qua c'è un banner dove cliccando riscattiamo tutto quello che hanno raccolto quindi dobbiamo un pochino vedere però è abbastanza è piuttosto complesso devo dire come come meccanica e quindi dovete fare attenzione anche se vi arriva l'avviso che sono sotto attacco dovete curare un sacco di cose e però questa gestione qui dell'equipaggio è molto molto bella diventa anche molto costosa dovete gestire molti più aspetti di microgestione rispetto a un x4 quindi il personale lo avete ed è automatico qua e non lo pagate qua dovete pagarlo quindi anche quando andate a mettere una stazione ovviamente per avere dell'equipaggio sulla vostra nave così come sulla stazione dovete mettere i blocchi di alloggio e i blocchi di alloggio sono questi i crew quarter li piazzate e vi aumenta la capacità massima di equipaggio e poi la prende prendete l'equipaggio e lo dovete pagare quindi è molto complesso come ultima cosa vi mostro un'altra cosa che è la diplomazione guardate quante fazioni abbiamo incontrato finora a parte noi ne abbiamo incontrate veramente tante il colore significa la nostra relazione con loro con questa la nostra zona iniziale gli altri sono tutti per lo più neutrali sappiate solo che se andate a sbattere anche solo per sbaglio ruotando come sto facendo ora contro la stazione prendete 100 150 anche 1000 di reputazione e per recuperarla dovete aiutarli a uccidere i pirati fare missioni per loro ovviamente cliccando su ogni stazione c'è la possibilità di prendere missioni che sono tante sono molto redditizie calcolate anche giusto per farvi appassionare un minimo che abbiamo anche modo con questa mappa di vedere a tutti nel quadratino dove ci troviamo noi al momento quindi questo che cosa c'è a livello di stazioni comunica direttamente premendo F selezionandolo qui ma anche usando un modulo di commercio che ho montato sulla nave andare a vedere quelle che sono le merci più pagate meno pagate e le route importanti calibrate sul perversa la stiva e i soldi che possediamo quindi in questo caso se io andassi a trade in posta a comprare dei cavi dei wires e loro ne vogliono 1700 vabbè però io quello che ho adesso costano 115 ne compro il massimo che posso trasportarne lo pago un tot glielo vendo al repair dock che ne vogliono fino a 1800 quasi e ci guadagnerei 17000 che non è tanto trovate anche cose da 90 100 e qua vi indica dove in questo settore il trading post e qui dove e al repair dock che è sempre qui all'interno di questo sistema in caso contrario mi avrebbe targettato un'altra zona qui da andare a viaggiare e trasportare le merci altro da dire non saprei ci sono gli alieni ci sono i pirati ci sono tante di fazioni queste sono zone spazio e tempo che non sono visitabili infatti dovete girarci intorno non si può viaggiare viaggiate sia col teleport quindi piazzando vedete quest'area viola potete viaggiare solo fin qui e poi dovete fare un altro salto un po' all'elite dangerous e viaggiate così attraverso i portali come vi dicevo o i wormhole che trovate c'è questo portale qui che va estremamente in alto sarà da capire fin dove arriva ma lo esploreremo con calma e altro da dire non mi viene in mente niente in realtà avrei molto da dire ma attendo le vostre domande se il titolo vi incuriosisce farò altri video e magari faremo anche la coop perché con gli sviluppatori sono rimasto d'accordo che avrei approfondito il gioco e avrei approfondito anche la meccanica coop che devo dire è assolutamente ottima perché io e non giochiamo mai almeno forse il primo giorno abbiamo giocato insieme ma dopodiché lui va da una parte e va dall'altra facciamo cose le navi le ha disegnate tutte lui quindi lui si è occupato un po' dell'ottimizzazione io cazzeggiavo per lo più perché devo dire che a parte fare salvaging e poco altro insomma ha fatto lui gran parte però le meccaniche poi gioco forza ho dovuto impararle un pochino anch'io perché è la mia partita quindi la ho sto a lui ma la gioco anche tanto da solo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo avorion vi ricordo anche che ci sono due DLC il rift e il black market da tenere d'occhio quelli non li ho purtroppo non li ho fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti quanto mai richiesto un vostro parere per sapere se proseguire o meno alla prossima ragazzi e ciao ciao